Buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è lunedì 10 luglio 2023 e diciamo subito che oggi si festeggia un santo molto particolare per i fanesi, è il santo patrono, San Paterniano. San Paterniano protettore di Fano di cui fu vescovo ma anche protettore di Grotta Mare e di Cervia. A Cervia c'è una reliquia che appunto viene venerata, mentre a Fano ovviamente abbiamo quello che rimane del corpo di San Paterniano. San Paterniano si dice nacque nel 275, fu oggetto della persecuzione di Diocleziano, fu eremita, abate e vescovo. E' molto venerato in città, la sua festa si festeggia appunto oggi con molte molte messe che saranno celebrate nella Basilica di San Paterniano, di cui quella delle 11 verrà trasmessa in diretta da Fano TV. E poi come non parlare della Tombola di San Paterniano, che è un'iniziativa tradizionale che si svolge a fasi alterne, dobbiamo dire che poi anno scorso per esempio non c'è stata, quest'anno invece sarà ripresa grazie alla Proloco e ad altre associazioni, il cui ricavato viene devoluto per la mensa di San Paterniano, che come sapete è la mensa dedicata ai poveri. Quindi potete divertirvi questa sera acquistando una cartella, ma facendo anche del bene. E vediamo le previsioni del tempo. Ecco la grafica, bellissima questa grafica, perché vediamo il sole in tutta la regione, tempo stabile e solleggiato, con una ventilazione debole, al più localmente moderata regime di brezza, quindi il vento sarà veramente insignificante. Le massime si stanno alzando, arriveranno fino a 31-32 gradi, la minima è di 22. I venti sulle coste espireranno da una direzione debole da est e nord-est, nell'interno debole da nord-est. E questa è un po' la situazione, il mare non dovrebbe essere mosso, ma diamo un'occhiata al mare, visitando oggi i bagni azzurra di Torrette, con noi abbiamo Cristiano Boni. Buongiorno Cristiano. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Fano TV. Benissimo, vediamo questa bella immagine sullo sfondo, la tua concessione, vediamo molti, sono palazzoni, alberghi, cosa sono quelli alle tue spalle? Appartamenti turistici? Bravissimo, sono appartamenti e c'è anche qualche albergo, sì. Benissimo, allora, tempo buono oggi immagino, durerà tutta la giornata, è vero? Oggi tempo bellissimo, come hai appena preannunciato, il mare, vi mostro, è molto calmo, come hai detto, quindi non ci saranno mari mossi, forse un po' di vento, e tutta la settimana si prevede, ci si aspetta un bellissimo sole, quindi già è caldo, si sta benissimo. Benissimo, con una temperatura di 30 gradi, la cosa più bella è stare sotto l'ombrellone a godersi la vacanza. Senti, ci presenti un po' i bagni azzurra, perché si chiamano azzurra? Ma ci siamo ispirati, come vedi, dal colore bianco e azzurro, che io penso che sia il colore principe dell'estate, del mare. Il cielo e mare azzurro, insomma. Bravissimo, bravissimo, ci siamo ispirati a questo, nasce, la prendiamo 18 anni fa, 250 ombrelloni, servizio di parcheggio, abbiamo i campi da beach volley, beach tennis, ristorante anche, quindi aperto sia a pranzo che a cena, questa è bagni azzurra. Tutto completo, quindi, ci si arriva al mattino, si può stare fino alla sera. Tu hai menzionato i parcheggi, sarà un argomento che tratteremo anche nei prossimi incontri, perché so che a Torretta, insomma, c'è un po' un problema critico sui parcheggi. Benissimo, Cristiano, grazie per questo tuo saluto mattutino, poi ci risenteremo anche domani. Grazie a voi, ci vediamo domani. E noi intanto proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Guardiamo oggi la prima pagina riassuntiva del resto del Carlino, sulla pagina ovviamente che riguarda la nostra regione. Ecco qua la pagina che vi ho annunciato. Vediamo le sintesi delle notizie, a partire da quella di Pesaro, dove campeggia il benvenuto che è stato dato ieri al nuovo vescovo delle diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, Monsignor Andrea Andreozzi, che è stato ricevuto al Pincio. Don Andrea Andreozzi, ecco il nuovo vescovo, siamo una squadra. La cerimonia di insediamento nella cattedrale di Fano. Spero, ha detto, di sapermi inserire con delicatezza e rispetto. Queste sono le prime parole che ha preannunciato il presule. Vediamo altre notizie che riguardano sempre la nostra provincia. A Urbino si commemora un fatto che caratterizzò l'impegno politico di Forlani, di cui oggi poi si celebrano i funerali di Stato a Roma. Forlani è il Raffaello acquistato negli Stati Uniti, mentre ci sono ancora divieti di balneazione sia a Fano che a Pesaro, per quanto riguarda l'inquinamento che si è verificato dopo l'ultimo temporale. Tuffi proibiti a Baia Flaminia. Mentre per quanto riguarda la pagina di Ancona, vediamo che c'è un articolo che riguarda il concerto di Ferro. Lui loda la regione in 26.000 le presenze a questa iniziativa. Mare stupendo, successo per il concerto del Conero, ha debuttato il treno navetta diretto allo stadio. Un servizio in più quindi per tutti coloro che hanno voluto assistere a questo evento. A Scolifermo, vandali in spiaggia, danneggiati due stabilimenti balneari. A Grotta Zolina, la festa della banda, 140 anni a passo di musica, mentre a Fermo si parla di arte, musica e spettacoli. Una notte, quella appunto dell'ultimo weekend, una notte da record. Ad Ascoli, la quintana di luglio, festa solestà. Luca Innocenzi dedica la vittoria all'amico Gubbini. Vediamo anche la pagina di Macerata. In Viale Trieste, a Macerata, è scoppiata una lite violenta in centro. Un locale è stato chiuso per una settimana. E poi a San Ginesio, mio fratello preso a calci in testa per una sigaretta. Veramente un episodio di violenza inqualificabile e poi scaturito per futili motivi, il che desta ancora più riprovazione. A Civitanova, il pontile, la marina, si rifà il look. Lavori pagati dai soci. Questo è un po' il sunto di tutte le notizie che poi vengono sviluppate all'interno. Ma noi per primo apriamo la pagina di Fano. La vediamo contemporaneamente sia sul resto del Carlino che sul Corriere Adriatico per vedere come la città ha accolto il nuovo Vescovo. Vediamo i titoli. Prima sul Carlino, il Vescovo entra a Fano, servirà giocare dal basso per coinvolgere tutti. È un'espressione che il nuovo presole ha mutuato dal mondo del calcio. Un mondo che lo affascina, che lo suggestiona e a cui si riferiscono poi alcune sue espressioni. E questa espressione che lui ha usato nel fare il primo discorso appunto ai fedeli dimostra come vuole coinvolgere un po' tutti. Nel calcio quando si gioca dal basso addirittura si coinvolge anche il portiere. Quindi non si discrimina nessuno. In questo caso appunto si vuole coinvolgere tutti i fedeli, tutti coloro che possono collaborare per la pace, per la concordia, per l'amicizia. Sono tre valori che ha tirato in ballo Monsignor Andreozzi. Vediamo anche cosa dice il Corriere Adriatico. Il caldo benvenuto a Don Andrea, parole di gioia per il nuovo Vescovo. Il Monsignore fa tappa al Pincio, accolto da centinaia di fedeli. È venuto da Marotta, dove appunto ha fatto il primo ingresso nella diocesi, nella chiesa di San Giovanni. Poi è venuto in macchina fino a Porta Maggiore. Qui è stato accolto dal sindaco di Fano Massimo Seri e dal prefetto e poi insieme a molte altre autorità, molti politici, civili, militari, insomma c'erano veramente tutti a porgere l'omaggio al nuovo Vescovo. È salito sul palco e ha rivolto il primo grazie a tutti coloro che lo hanno accolto davanti all'arco d'Augusto. Poi si è indirizzato verso la cattedrale. Sulla porta dell'uomo è stato salutato dal Vescovo Armando Trasarti. Ultimo abbraccio e poi il Vescovo se ne è andato. E lì c'è un po' di rammarico perché Monsignor Trasarti ha così caratterizzato 16 anni del suo episcopato con un ricordo indelebile. Restarà sempre nel cuore dei fanesi. E poi quindi è cominciata tutta la cerimonia religiosa. Una messa caratterizzata da canti, da riti veramente in forma solenne e poi l'abbraccio dei fedeli sia nella chiesa del Gonfalone che nella Pinacoteca di San Domenico e il break che c'è stato nel centro pastorale diocesano di Via Roma. Una a un pomeriggio assolato ma anche caldo per quanto riguarda l'affetto che ha circondato il nuovo preso. Vediamo ora le altre notizie. Tornando sul resto del Carlino. Bagni vietati alla foce del Metauro. Effetto a catena per la balneazione dopo le piogge torrenziali di giovedì sera. I problemi che ci sono avuti con il fiume Foglia che ha poi caratterizzato Baia Flaminia a Pesaro sono gli stessi che ad un giorno di distanza si sono poi ripetuti nei pressi della foce del fiume Metauro. Infatti nella giornata di ieri il sindaco della città della Fortuna ha dovuto emettere un'ordinanza di divieto di balneazione al sud della foce del Metauro interessato da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti all'attività degli scolmatori che sono entrati in funzione perché poi tutta l'acqua che è dilavata portando ovviamente fango, sporcizie eccetera è affluita in mare e quindi c'è stato questo momento insomma non molto bello dal punto di vista turistico ma tanto quando ci sono i grossi temporali così è. E diamo un'occhiata ora invece a quello che è accaduto a Pesaro divieto di balneazione tutti a tuffarsi in mare e di notte albergatori di ronda per la musica sembra veramente una cosa strana quando l'acqua è pulita nessuno fa il bagno perché c'è il timore che sia sporca quando c'è il divieto di balneazione invece tutti quanti fanno il bagno ed è quanto si è verificato appunto a Pesaro vediamo cosa dice l'articolo c'è il cartello vietata la balneazione l'acqua inquinata ma non conta tutti i mari ieri a Baia Flaminia come se ci fosse il mare cristallino pensate è strano quando l'acqua era balneabile non entrava in mare nessuno perché sembrava che fosse sporco e si temeva che avesse le scorie dell'alluvione invece quando il mare è veramente non molto bello tutti in acqua e viva e viva così poi le conseguenze chissà se ci saranno o non ci saranno vediamo ancora la pagina di Fano sul resto del Carlino parliamo del Rotary Club c'è stato un passaggio di consegne il martelletto passa da Giorgini a Tiziano Busca ecco vediamo un po' eccolo qua l'articolo sì oltre 100 persone quasi tutti i rotariani molti provenienti anche da Pesaro e da Fano hanno partecipato al passaggio del martelletto dal Rotary di Urbino la cerimonia ha segnato il cambio di presidenza del passaggio del testimone da Sergio Giorgini all'entrante Tiziano Busca si parla quindi del Rotary di Urbino e non quello di Fano occasione anche per la presentazione di nuovi soci del club Ducale Romina Pierantoni Letizia Badei Anna Maria Copertino e Michele Aurelio inoltre come consuetudine momento solenne per assegnare il prestigioso riconoscimento del Polaris Fellow a due soci che si sono distinti Tonino Pencarelli e Raffaella Bagnerini e anche a Fano invece c'è stato rin giorni scorsi il passaggio di consegne per la nuova gestione dell'anno sociale del Lions Club vediamo ora altre notizie estorceva soldi ai genitori è stata arrestata la polizia ha arrestato una trentenne fanese tossicodipendente per avere minacciato gravemente i genitori i quali hanno purtroppo sono stati costretti a chiamare il 113 per difendersi dalla figlia che ritenevano capaci di fare loro del male in maniera grave non era la prima volta che i coniugi si sentivano in pericolo per l'irruzione in casa della figlia che pretendeva soldi per comprare la droga all'ennesima volta hanno chiamato aiuto per bloccarla ed è stata arrestata e portata in carcere appunto alla fine è successo questo ed è veramente una cosa molto molto triste vediamo anche l'articolo che riguarda i funerali di Arnaldo Forlani il resto del Carlino oggi rievoca un episodio di cui Forlani è stato protagonista è stato interprete quando un'asta americana l'asta Christis di New York mise appunto all'asta un quadro di Raffaello era il Santa Caterina d'Alessandria ebbene questo quadro grazie ad Arnaldo Forlani fu per la prima volta acquistato dallo Stato italiano il quale appunto sempre per la prima volta partecipò a un'asta la valutazione era piuttosto alta oltre poco meno di 2 miliardi di lire quindi quasi 2 milioni di euro di oggi era un quadro una tempera molto molto bella che poi fu assegnata c'erano anche altre concorrenti ma fu assegnata a Palazzo Ducale di Urbino città natale del grande Raffaello il 10 gennaio 1991 a New York la Casa Christis indisse un'asta per assegnare al migliore afferente diverse opere tra cui appunto Alessandria Alessandria d'Egitto Alessandra d'Egitto condannata al martirio per la sua fede cristiana era un episodio che ora viene rievocato insomma ecco come ha contribuito Arnaldo Forlani un po' anche alla valorizzazione dei beni culturali della sua provincia natale Londei racconta in retroscena quelle telefonate accorate per fare presto l'ex sindaco svela come l'allora segretario della democrazia cristiana non perse neppure un minuto per l'operazione mai tentata prima quella appunto di acquisire allo Stato italiano un'opera di Raffaello ed ora continuiamo le notizie sul Corriere Adriatico e vediamo la seconda pagina che riguarda Fano l'ultimo miglio per il parcheggio del Foro Boario ora cambia il divieto di transito mancano pochi giorni per il compimento dei lavori nelle più grande parcheggio di Fano che è stato riqualificato dall'amministrazione comunale è stato asfaltato sono stati disegnati i posti ci sarà un nuovo impianto di illuminazione insomma ora questo parcheggio che serve delle istituzioni molto molto importanti dei punti di attrazione molto importanti quali lo Stadio Mancini quale l'ospedale poi si tratta a due trecento metri dal centro storico perché basta fare via la via che conduce il Viale Gramsci che si trova già praticamente al centro storico quindi è un'opera molto importante che ha comportato un investimento di 800 mila euro ebbene tra pochi giorni il grande parcheggio del Foro Buario sarà pronto per tornare ad ospitare tutti i veicoli che rientrano nella sua capienza recentemente per consentire la realizzazione degli ultimi lavori sino ad oggi è stato interdetto il transito all'area di via Mercantini lato circolo anziani transito che però oggi verrà ripristinato regolarmente da domani però fino al 14 luglio verrà chiuso l'ingresso principale ovvero il varco che dà su via Gabrielli e poi verrà garantito a questo proposito dato che l'uno verrà chiuso verrà garantito l'accesso da via Fabri via Manara e via Mazzolari affinché si possa continuare ad utilizzare la parte almeno dove i lavori sono stati finiti sono stati terminati un articolo che riguarda a fondo pagina un compleanno particolare del club anziani di Sassonia ha compiuto 40 anni e sabato scorso è stato festeggiato con una festa da tutti i soci alla quale hanno partecipato anche molte autorità a partire dal sindaco Massimo Seri c'erano diversi assessori c'era anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi sfilata di autorità per uno dei più vecchi sodalizi della città è stata una intuizione veramente singolare quella che ebbe a suo tempo l'architetto Gianni Lamedica quando nel 1983 ebbe l'incarico di ristrutturare tutta la passeggiata di Sassonia ebbene quella era terra preziosa terra molto importante dal punto di vista turistico lui invece cosa fece riservò parte di questa superficie a un club anziani c'era solo una catapecchia molto faticente perché era un atto di omaggio verso questa fascia d'età che doveva essere nobilitata doveva essere ringraziata ed allora questo club è cresciuto ora a 150 soci è molto attivo è artefice di molte attività e quindi ricorda tutti gli anni passati con grande grande calore e attività ci sarà un libro che ricorderà un po' tutti i trascorsi mentre sabato scorso è stata inaugurata una mostra fotografica di Paolo Tallevi presentata da Silvano Clappis giriamo ancora le pagine passiamo a quella della Val Cesano dove vediamo che è successo un fatto di cronaca che per fortuna non ha determinato gravi conseguenze un barbecue va a fuoco in giardino nella fuga ha ferito un bambino un incendio in un villino il piccolo è caduto mentre lo calavano dal balcone fuga di gas da una bombola in giardino paura per una famiglia a Ponte Sasso un principio d'incendio si è scatenato ieri alle 13 quando i genitori con i relativi bambini stavano preparando un barbecue sul retro di una villetta privata a due piani di fianco all'hotel Caravell improvvisamente per cause che sono ancora in corso di accertamento si è staccato il tubo che collega la bombola ai fornelli ebbene il fumo del barbecue avrebbe poi cominciato ad invadere repentinamente gli ambienti domestici innescando un principio di incendio quindi c'è stato un fuggi-fuggi e appunto in questa fuga si è ferito anche il bambino ma per fortuna poi il rapido intervento dei vigili del fuoco è riuscito a risolvere tutti i problemi il martedì dell'arte Gaggia inaugura la serie questo è a Pergola Pergola in cammino verso la capitale della cultura 2024 sappiamo come pesa lo sta coinvolgendo anche diversi centri per così corredare il programma di attività di iniziative che caratterizzeranno l'anno 2024 come capitale nazionale della cultura quindi anche Pergola darà il suo contributo vediamo Senigallia parcheggi e spiaggia stretti d'assedio abusivi allarme rosso toleranza zero sul litorale c'è stata una operazione congiunta della finanza e della polizia locale per reprimere il commercio abusivo è stata la prima operazione che è stata fatta in questa estate ne seguiranno altre c'è una sorta di tolleranza zero chi ha il permesso può operare tranquillamente chi non lo ha viene allontanato e quello che ha da vendere viene sequestrato blizzi in spiaggia dunque contro gli abusivi sabato svolto in maniera congiunta dalla guardia di finanza e dalla polizia locale diamo un'occhiata anche alla pagina regionale del corriere adriatico dove si parla dello spostamento della ferrovia prove ad alta velocità vediamo che i progetti a confronto vediamo qui due linee una rossa ed una azzurra quella rossa è l'attuale quella azzurra riguarda lo spostamento della ferrovia nell'entroterra ebbene qui ci sono alcuni dati molto molto significativi si tratta di spostare 610 chilometri di binari tra Emilia Romagna Abruzzo Molise Puglia e Marche tempi previsti 13 anni ebbene ci vogliono 13 anni ma se alla fine veramente questo progetto andrà in porto sarà una bella bellissima cosa ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e questa sera per le notizie del giorno alle TG di Fano TV occhio alla notizia ci saranno veramente notizie interessanti grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti